Che cosa avrei fatto se non avessi vinto Sanremo? Ti ricordi che ti avevo detto che ero andata a Sanremo? No, ma non hai mica vinto. Ho sempre avuto tanti piani B. Organizzata ma sognatrice. Semplice ma combattiva. Adesso facciamo che si ha la musica a parlare per noi. Mi sento che sono fatta da due personalità diverse, come se conoscessi solo una vita. Siamo qua al rovescio della medaglia. E la medaglia è stata grande e il rovescio anche grande. Uno deve solo sopravvivere. Io non ci sto, io voglio vivere. Non c'è bisogno del grande palco per trovare la felicità. Comunque hai sbagliato per il notte. Chi? Te. Questa notte si fa la storia! Quasi 30 anni di carriera, di esperienze incredibili. Ancora oggi mi sveglio e mi chiedo, perché è proprio me? Quasi Hannici. Quasi 37 anni di carriera... Chi?